E che cazzo, di nuovo, di nuovo Ehi amico, se c'è lei, io ho voglia di farmi un giro, mi trovi nei dintorni, chiamami più tardi, saluto Ciao Porca puttana Spero di farcela, spero solo questo A dopo Manu Ehi Grazie Vediamoci qualche volta Ehi amico, sono gasatissimo, attento al traffico e non esagerare, ci vediamo all'arrivo Non esagero Ti faccio vedere come non esagero Dici che stai esagerando eh, io dico di no Io, sono io Ehi Vieni a Longhorn, dobbiamo parlare Ok Ehi Era la 277, eh? Magari non sai neanche che la preferita di Magnus in assoluto Cosa? Magnus ha offerto a questo tipo, una corsa, su una delle sue 911, come l'ha avuto il tuo numero, eh? Ehi, è vero Che cosa hai fatto? Lui mi ha sfidato L'ho dato io Rilassati Già Enorme talento Ehi La mia sfidata Questa hai fatto? Le dato che è stato fatto Lui mi ha sfidato Lui mi ha sfidato Questa hai fatto? Lui mi ha sfidato